C'è una realtà virtuale che è veramente utile per i pazienti, è quella che abbiamo sperimentato, possiamo dirlo, con questo ipnoviso dalla dottoressa Pavani. Allora, che cos'è e a cosa serve? È un sistema che induce un'autoipnosi audio-video. Attraverso questo sistema è possibile immergersi in una realtà virtuale. Serve per far estraneare il paziente dall'ambiente che lo circonda. Il nostro ambiente, che spesso per il paziente è un ambiente ostile. Vuoi perché il paziente è incerto sul suo futuro, è a paura. La possibilità di avere questo visore è una riduzione di questo delirio da terapia intensiva, sempre in un'ottica dell'umanizzazione delle cure. Il ricovero è una terapia intensiva per i malati è un momento altamente stressante, che può determinare ansia, agitazione, fin quando il delirio. Non solo, le stesse evidenze ci dicono che spesso i pazienti che escono dall'animazione vanno incontro a una sindrome da stress post-traumatico, proprio dovuto al ricovero. Quindi se i malati, soprattutto i malati svegli, che sono dell'animazione, vivono questi sentimenti negativi e sono agitati, sono più esposti a delle complicanze. Quindi il fatto che il malato sia più tranquillo, oltre a vivere meglio l'esperienza e quindi avere meno ricadute a medio e lungo termine, di fatto riduce il rischio di complicanze e quindi agevola anche noi, ne quello che noi chiamiamo la routine di cura.